Bene, vediamo un esempio di uso di Blender in maniera molto semplice con una funzionalità che ho scoperto, o meglio riscoperto da poco che è il volo libero o il camminamento in Blender In pratica, ve lo farò vedere più tardi, significa che si può esplorare dentro Blender le costruzioni fatte come se si fosse in una sorta di mondo virtuale Questo introduce tutta una serie di incoraggiamenti e gratificazioni a bambini, studenti o persone che vogliono imparare Blender e che vogliono avere degli obiettivi tangibili da sperimentare una sorta di costruzione di videogame che si può fare in pochissimo tempo, anche partendo da zero Quindi, riassumendo, proviamo a fare... vedete che qui ho un cubo, un semplice cubo questo cubo lo lasciamo lì e gli mettiamo un... quindi selezioniamo Shift A e aggiungiamo un piano sotto Quindi, aggiungendo il piano, abbiamo fatto in sostanza un terreno di gioco su cui adesso andremo a camminare però prima di farlo aggiungiamo degli alberelli, giusto per... perché sia un po' meno noioso Quindi, aggiungiamo dei cilindri, quindi questo è un cilindro lo facciamo S e poi facciamo SZ per ampliarlo e sulla cima di questo ci mettiamo una sferella quindi facciamo una Mesh UV Sphere UV Sphere S lo facciamo così e così facciamo una sorta di alberello è molto semplice, molto pulito facciamo Shift, tasto destro e poi facciamo duplicati Shift, duplicati quindi facciamo vari alberelli in giro per la nostra struttura ecco, magari lo spostiamo in un posto un po' così e poi magari facciamo un altro edificio quindi Shift D, questo lo spostiamo facciamo magari un pochino di edificio vedete che sto usando tutte operazioni abbastanza semplici in modo tale da più o meno simulare quello che si potrebbe insegnare in pochi minuti insomma a dei ragazzini come vedete abbiamo semplicemente possiamo aggiungere, insomma fare una specie di strada ora, a questo punto entriamo nel vivo di quello che volevo farvi vedere cioè, supponendo di avere questa struttura vediamo di passeggiarci dentro quindi il passeggiamento dentro lo facciamo con Shift F quindi proviamo semplicemente Shift F e a questo punto siamo in una modalità vedete in fondo c'è scritto LMB, eccetera, eccetera, confirm tab gravity W, A, S, D che sono i famosi tasti che servono per i giochi quindi praticamente W, A, S, D si muove e lo vediamo subito facciamo W vedete che prendo W vado in avanti premendo S vado indietro A vado a sinistra D vado a destra poi abbiamo E per alzarci e Q per abbassarci e fin tanto che fosse questo è già interessante perché io posso volare nel senso che vedete che col W tendo avuto W posso girare attorno al mio edificio ma la cosa interessante la si ottiene abilitando la gravità cioè se io faccio Tab vedete che in realtà io passeggio e quindi mi rendo conto anche di proporzioni queste qui sono in realtà è come se la camera che sta passeggiando fosse alta circa un metro credo quindi vedete che dà una percezione tattile di quello che succede adesso qui fa entrare anche ma la cosa interessante è che quando siamo in modalità Shift F a volo camminamento libero possiamo anche quando abbiamo abilitato il Tab quindi vedete che sotto abbiamo fatto Tab quindi la Gravity è On lo vedete qui sotto Gravity On quindi quando la gravità è su è accesa se faccio E non riesco più a a volare quindi se io voglio andare sul tetto di quell'edificio l'unica cosa che potrei fare è il V che mi fa fare un salto quindi vediamo un po' se noi facciamo W ecco saltiamo se facciamo W saltiamo quindi vedete che ci fa saltare ecco però non riusciamo a non riusciamo molto a farlo quindi qui potrebbe essere interessante dire ai ai bambini di costruire queste cose in grandezza un po' naturale e poi di creare delle scale facciamo escape per uscire in modo tale da poter andare salire su questi edifici o addirittura in alcuni casi entrare anche dentro questa possibilità è notevole ed è in realtà molto semplice si può utilizzare anche per per esplorare voi stessi gli edifici complessi che avete costruito e per avere un'idea insomma dell'abitabilità e credo che sia tutto quindi spero che sia stato abbastanza chiaro ma è abbastanza interessante buonasera grazie grazie grazie